Se avessi detto, caro Alex, che erano i Fleetwood Mac ci avrei creduto e in realtà no, questi erano di Empire of the Sun Se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto 11.35 è truccato come Totò nel film, come si chiama? Beh, quelli che vanno a Milano Mala femmina Totò Pepino è una mala femmina era? Mi sembra di sì, perché loro vanno A Milano, no io volevo avan Savoan in diriz A Milano perché il nipote si era messo con questa ballerina Però a caro Luca Carboni, buongiorno Buongiorno, buongiorno a tutti Tu non è che arrivi da Napoli, arrivi da Bologna che è almeno fredda quanto Milano Sì, infatti stavo dicendo che invecchiando sono diventato molto freddolose Quindi maglie di lana C'è la maglia di lana a so, c'è la canottiera di lana E aveva due piumini uno sopra l'altro Esatto Per la voce imbacucato Comunque a parte questo, tutto bene? Tutto bene Sei in un buon momento, il tuo disco sta andando benissimo Oddio, l'album esce dopodomani Sì, speriamo Però insomma la canzone che lo ha preceduto ha avuto un airplay anche sorprendente se vogliamo Sì, devo dire che mi ha dato molta soddisfazione anche per Claudio Loli Il cantautore che ha voluto tirare fuori con questo Perché è una canzone difficile Quindi non mi aspettavo che riuscisse comunque ad avere anche questa dimensione più leggere, più pop A me ha colpito molto il modo in cui tu l'hai fatta diventare tua Cioè per uno che non conosce quella originale Questa è una canzone di Carboni Cioè ho visto anche gli Zingari Felici Ma per me è un complimento Devo dire che le canzoni che ho scelto sono canzoni che io ho amato molto E che forse ascoltate da bambino attraverso il mangianassi dei miei fratelli più grandi Sono anche un po' state le canzoni che mi hanno dato lo stimolo per cominciare a scrivere Quindi credo che ci sia qualcosa che mi appartiene Sono voci familiari Hai cominciato con la chitarra o con il pianoforte? Io ho cominciato col pianoforte Studiavo pianoforte classico Nel frattempo appunto sentivo dal giradischio e dal mangianassi di mia sorella e di mio fratello queste canzoni Più grandi di te entrambi loro? Sì, otto anni e cinque E quindi sentivo un po' tutto il mondo della canzone d'autore Entrare in casa e scoprivo che fare musica non era solo suonare delle notte Tu eri Lucchino a casa Sì, io fino a quel momento ero il più piccolo Poi è arrivato un altro fratello più piccolo di me, di otto anni Quindi eravate in quattro Che quattro, l'altro è venuto Ah, pensate Quattro figli, quattro fratelli Cinque Cinque fratelli, caspita Senti, e quindi queste canzoni che tu hai scelto Farò tutte parte di quel periodo Oppure in qualche modo hai studiato appunto delle canzoni che ti potevano stare addosso bene? Ma io ho voluto fare proprio un omaggio alla canzone d'autore A queste voci familiari che mi entravano in casa E sono anche gli autori che secondo me hanno un po' cambiato Tutti noi italiani in quel periodo Sono canzoni tutte più o meno tra il 75, 76, 77 Quindi è un periodo dove io andavo verso i 14 anni Dove ho avuto la svolta di prendere appunto Anche attraverso questi ascolti Mano la chitarra Abbandonare un po' il piano E cercare di cominciare a scrivere canzoni Quindi 5 o 6 anni prima che tu cominciassi a fare musica sul serio Sì, io ho cominciato La mia prima canzone l'ho scritta nel 77 E poi a 15 anni avevamo già la band Con cui sognavamo di fare una nostra musica Qual era il tuo riferimento? Cioè l'icona assoluta Tra quelli italiani si intende? Ma io in quegli anni lì poi ho scoperto il punk Anche quindi da amante di De Gregori Da De Gregoriano come mi ritengo io Poi tutta la mia storia musicale È stato un po' un tentare di far convivere Questa La forza delle parole, del testo Che c'era nella canzone d'autore Con invece una musica un po' più Rock, anche più aggressiva Quindi poi con la band Diciamo il lavoro è stato quello Di far convivere queste due influenze Ho letto da qualche parte Che alcune canzoni in realtà sono rimaste fuori Le tieni buone per un'altra occasione In particolare quelle un po' più prevedibili Mi pare di capire Ma no Ci sono stati due o tre autori Che ho tentato di mettere nel disco Ma non ci sono riuscito Perché non ero soddisfatto del risultato Uno è stato De Andrè Con Via del Campo Che non è venuta come mi piaceva Poi Pino Daniele Perché è napoletano Non ti veniva Non eri credito Non volevo chiamare Non avevi provato a fare No Volevo fare di soppasso Di soppasso E poi già con Dovevo chiamare tu Con quelle due zeta Io soppasso Esatto E quindi Poi il primo venditti Anche c'erano delle cose belle Che poi sono rimaste Poi alla fine Ci siamo concentrati su questo lavoro È curioso come nel repertorio vastissimo Della musica italiana Linus Ci si concentri Almeno fino ad adesso Ci si sia concentrati Sugli anni sessanta Ah gli anni sessanta No per riprendere Invece Probabilmente perché ci vuole Una certa distanza Rispetto alla Sì assolutamente Poi voglio dire La maggior parte degli autori Dei cantanti anni sessanta Praticamente sono già usciti Di scene Quindi C'è veramente il senso Di andare a riscoprire qualcosa Invece In effetti Molti degli autori Che io Ho Ho citato In questo album Sono ancora Diciamo Lì a fare i dischi Per esempio Il caso di De Gregorio Di cui tu hai ricantato E ora l'ascoltiamo Questa canzone Che si chiama Il raggio di sole Sì nella fabbrica Canzone magari non popolarissima Però ci raccontava Luca Carboni Contenuta in un film storico Sì Insomma Credo che questa canzone Sia nata per Come Colonna sonora Di un film di Monicelli Un romanzo popolare E in questo film Oltretutto Iannacci E Beppe Viola Il giornalista Sportivo Sportivo mitico E non solo Appunto Il giornalista anche colto A tutti i livelli Lavorarono per I testi Per la parte milanese Ah del film Del film Esatto Tu parli bolognese invece Se capita Allora io sono cresciuto Sì in una famiglia Con i nonni in casa Quindi si parlava dialetto In casa si parlava solo Solo bolognese Almeno i miei nonni Quindi insomma Mi vergogno un po' a parlarlo Ma lo capisco bene Lo saprei parlare Insomma Senti stavamo Raccontandoci fuori onda Il fatto che tu hai fatto Sì un disco di cover Però è un po' restrittivo Come termine Perché il disco di cover Sembra quasi La scaletta del piano bar Un po' Michael Bolton Eh sì In cui uno ricanta Tra le cose più George on my mind E super classici Insomma Invece qua c'è la casa di Hildi Di De Gregori Che forse neanche De Gregori Se la ricordo In effetti è scandagliato Un periodo interessante Devo dire No Perché l'obiettivo Che mi ero proposto Era appunto Visto che è venuta un po' La tendenza di fare Dischi di cover Di fare un disco di cover Ma diverso Che avesse la possibilità Anche di appunto Di raccontare un periodo E quindi fare un omaggio mio A quel periodo Ma nello stesso tempo Anche secondo me Ci sono Credo di aver scelto Canzoni Che possono essere ancora Che ormai Non girano più in radio Non hanno più Comunicazione Fuori Però alcune sono conosciute Per non spaventare la gente C'è Musica Ribella di Finardi C'è A Petrus Tuarm Di Battiato Venderò di Bennato Bennato l'hai sentito Sì sì Mi aveva anche invitato In un concerto A cantare appunto Venderò Sul palco Ma Gli ho detto No io voglio Non voglio cantare La tua versione Voglio cantare la mia versione Quindi prima La dobbiamo studiare bene No Credo che sia anche Una serie di canzoni Che secondo me Sono ancora molto attuali Quindi Possono ancora Emozionare Colpire Come se fossero Delle canzoni Anche perché poi Subito dopo Cioè negli anni 80 C'è stato poco Cioè c'è stato Carbone Insomma Siete arrivati voi C'è stato Vasco Forse sono gli anni bui Della musica italiana Gli anni in cui No veramente Si vendevano pochi dischi In proporzione In proporzione Chi poi vendeva Di musica italiana Vendeva Ma se guardavi una Hit Parade Erano tutti stranieri C'erano Durando l'anno Si ci fu il boom Della musica straniera Poi ci fu il boom Del grande pop italiano Che dagli anni 60 Che era morto E' ritornato Con Eros Ramazzotti C'è le voci Ecco ecco Gli anni 80 Sono stati anni Secondo me Molto comunque Belli musicalmente Ma non erano più Diciamo Non c'era più solo Un genere Ma sono stati anni liberi Sono venuti fuori C'è Raff Con self control Quindi l'italiano Che faceva la dance Irigheira Irigheira E poi sono Ecco purtroppo Una cosa che io Ho sempre pensato E' che Avendo appunto Avuto tanti cantautori Negli anni 70 Le case discografiche Chiusero un po' Le porte Ai nuovi cantautori Come me Negli anni 80 Quindi ce ne sono stati pochi Oggettivamente Che hanno potuto fare Un percorso tipo Il mio Senti invece Ripensando ai tuoi primi dischi Dustin Hoff Ma un po' di film Ne ha sbagliati In questi ultimi anni Murca visere Spieghiamo la battuta Perché questo era il titolo Di un album Del primo E intanto Dustin Hoffman Non sbaglia un film Beh diciamo che Fino a quel momento Non li aveva sbagliati Poi è chiaro Poi è arrivato Mister Magorius Perché sai che No a parte Mister Magorius Non era bruttissimo Perché mi hanno spiegato Questa cosa qua Gossip Che lui non accetta ruoli Da non protagonista E questa è stata La fine della sua carriera Cioè lui dice No O sono protagonista O niente E vabbè Ne riparliamo Ne riparliamo In questi casi Bene Il disco esce venerdì prossimo Dopodiché il tour Parte il 2 di marzo Quello ufficiale La prima tappa E a Verona Sì Il 2 di marzo Da Verona E poi giriamo un po' Sarà un tour teatrale E sul palco Con me ci sarà E sono molto contento Anche Riccardo Anche bello Quindi faremo un concerto Veramente molto particolare Insieme Con anche dei duetti E poi Quanto rimanete in giro Qualche mese? Eh staremo di sicuro Nei teatri Marzo e aprile E poi vedremo Dopo l'estate Cosa faremo Bravo Complimenti Era Luca Carboni Grazie a voi